Grazie per aver sistemato. Figurati. Vuoi un po' di pasta? No. Io più ci penso a sta storia, a me non ci capisco. Cioè, Nadia non beve neanche una birra piccola, ma mezzo chilo di cocaina quando? Ma poi ce la vedi a spacciare. Olli, ti svegli. Ha confessato. Grazie, Eros, lo so. Sto cercando di capirci qualcosa di questa cassa. Ma che cosa c'è da capire? Ti sei dimenticata chi è Nadia? Perché io no, mi ricordo tutte le volte che mi lasciava in macchina al caldo, da solo, chiuso, e andava a fare le sue commissioni, da cui puntualmente tornava fatta come una pigna. Perché quando ha rubato il televisore al nonno? Che noi non abbiamo più potuto vedere nessun cartone animato. Zero. Ma che cazzo dici, Olli? Sai da anni che dovrebbe essere in carcere. Tu non c'entri niente invece con sta storia? Va bene. Sono uno spacciatore. Eros, è facile. Dimmi, non c'entro niente con sta storia. Olli, scusa, se fosse un cocaino me non lo saprei. Ma poi spacciatore, cioè, i soldi dove sono? Fabio, scusa, è mio fratello. Lo conosco bene anch'io. Mi guardi negli occhi? Dimmi che non c'entri niente con sta storia. Ok, sei pazzo ufficialmente. Basta. Oh, ma lo sai che i tuoi nipoti dormono in una casa famiglia stanotte? E io che cazzo c'entro? Sfero un cazzo, Eros! Perché ti giuro che se c'entri qualcosa non c'è neanche il minimo rimorso. Io non te la perdono questa qua. Io non ti la perdono questa.